Una delle situazioni da analizzare per l'organico del Napoli in vista della prossima stagione è il rientro dei giocatori in prestito. Andiamo con ordine. In porta vedrà per la prima volta in carriera l'Azzurro del Napoli Elia Caprile, autore di un'ottima stagione all'Empoli nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fuori i primi due mesi di campionato. 22 anni, papà napoletano, sarà il portiere del domani. Per la prossima stagione andrà ad affiancarsi a Meret così da crescere al suo fianco. In difesa Alessandro Zanoli, dopo l'esperienza in prestito alla Sampdoria e alla Salernitana, potrebbe lasciare a titolo definitivo. A centrocampo c'è Michael Foloruncio, uomo salvezza dell'Ellas Verona, suon di gol e prestazioni importanti che gli sono valse la convocazione nazionale maggiore. Vedremo quanto spazio gli concederà Spalletti all'Europeo. Con lui rientrerà anche Gianluca Gaetano, che a Napoli è di casa. Il Cagliari ha evitato la retrocessione pure grazie alle sue quattro reti messe a referto da gennaio. Dalla tre quarti in su ci sono Zerbin e Popovic dopo i sei mesi a Monza. Se il primo potrebbe rivelarsi utile per il gioco sugli esterni di Conte, l'altro resta ancora un oggetto misterioso da decifrare. Infine, Valic e Dira, come Caprile, è stato acquistato la scorsa estate dal Bari per essere girato subito in prestito al Frosinone. Nonostante la retrocessione dei Ciociari, il marocchino si è imposto nella squadra di Di Francesco, segnando sette gol, di cui una doppietta al Maradona. Una soluzione interessante, soprattutto se Simeone dovesse partire. Grazie a tutti.